In questa puntata Questa settimana si è tenuta la seduta solenne del Consiglio regionale per la festa dell'Europa del 9 maggio. È la prima volta che il Consiglio si riunisce in seduta solenne per l'Europa. Lo abbiamo voluto con forza e ringrazio il Presidente Gazzetti e tutti i membri della Commissione Europa per dare un segnale, un segnale importante. Oggi abbiamo sempre più bisogno di Europa. Certo, l'Europa va migliorata. Ce ne siamo resi conto in questi terribili mesi della pandemia. E oggi questa iniziativa che ha avuto l'onore di aver presenti con la loro prolusione il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, e il Presidente Deussè danno il senso e il valore simbolico di quanto sia importante mantenere un legame forte tra la Toscana e l'Europa. Di quanto la Toscana debba lavorare per essere sempre più un luogo in cui poter mettere a terra le tante iniziative che nascono a livello europeo. Una sfida che stiamo cogliendo, una sfida che non ha colori e connotati politici, e una sfida per dare più risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana. La Commissione Europa è una realtà che era presente all'interno del Consiglio regionale da tempo. In questa legislatura è stata trasformata in una commissione permanente. In questa nuova versione noi ci siamo dati degli obiettivi. Noi abbiamo portato a termine una proposta, una proposta di legge che è servita a istituire la festa dell'Europa in Toscana. È l'avvio di un percorso perché bisogna dal nostro punto di vista partire dai simboli per poi passare ovviamente a un lavoro quotidiano sulla grande concretezza delle opportunità che discendono dall'Europa. Perché è sotto gli occhi di tutti che le grandi prospettive legate al next generation, al recovery, passano proprio dalle indicazioni e dalle scelte fatte dal livello europeo. E se noi sui territori, nella fattispecie in Toscana, potremmo essere in grado di cogliere tutte queste opportunità. Un lavoro che ci porta a dare il nostro contributo, a capire quelli che saranno i fondi, quelli che sarà la politica dell'Europa e noi essere presenti e testimoni di quello che dovranno essere poi dopo gli investimenti che dall'Europa arriveranno all'Italia e di conseguenza verranno poi dopo riportati sulla Toscana. Per cui siamo al lavoro, abbiamo fatto tante audizioni, abbiamo ampliato le nostre conoscenze e speriamo nel breve tempo possibile di poter essere a disposizione dei nostri concittadini per poter dare il nostro contributo. Questo Consiglio regionale sembra voler prendere il tema dell'Unione Europea più seriamente di quanto si sia fatto finora. Dobbiamo ricordarci che è importante che il rapporto con l'Europa sia sempre biunivoco. Cioè l'Europa deve sempre avere presenti quelle che sono le situazioni delle singole regioni e questo rapporto di biunivicità deve essere anche propositivo. Le regioni devono proporre. Io devo dire che finora la Commissione ha proposto questa festa, ma in realtà non c'è stata molta attività in più. Ci sono state delle audizioni e la proposta che è stata fatta per il PNRR non è stata così forte come noi avremmo voluto. Ma soprattutto c'è qualcosa che la Regione Toscana deve dire con forza. Che l'Unione Europea avrà senso se tutti gli Stati e tutti i cittadini di ciascuno Stato avranno pari dignità tra loro. Finché esisteranno le possibilità, come è successo nel caso della Germania, di poter avere o chiedere un numero di vaccini superiore per il proprio Paese, ecco questi sono i segni che fanno capire che l'Europa non è ancora quella che chiedevano Schumann e Spinelli. Il 9 maggio rappresenta per ciascuno di noi, cittadini d'Europa, la celebrazione di un percorso di integrazione, di prosperità, di pace che ci ha accompagnato per oltre 70 anni, mai come in questo momento risuonano attuali le parole in particolare di Robert Schumann quando nel 1950 aprì la sua celebre dichiarazione e gli scrisse l'Europa non potrà farsi in una sola volta, ne sarà costruita tutta insieme ma si farà attraverso realizzazioni concrete creando prima di tutto una solidarietà di fatto, la forza di quelle parole attraversa la nostra storia comune ci indica la strada che dobbiamo percorrere, anche quest'anno la ricorrenza della festa dell'Europa coincide con un momento davvero complesso per le nostre comunità, per l'Unione Europea e per il mondo la drammatica crisi del Covid è stata un vero e proprio spartiacque e lo sarà anche in futuro perché è un evento devastante, inatteso, il virus è riuscito a mettere in evidenza le contraddizioni di un mondo globale senza regole che specialmente negli ultimi 20 anni non ha fatto altro che produrre fratture, disuguaglianze nel nostro corpo sociale, tutto ciò ci pone dei grandi interrogativi come cittadini, come decisori politici, la risposta è che non possiamo tornare al mondo di prima mi rivolgo soprattutto ai giovani studenti che sono collegati, che saluto, la pandemia non può essere una parentesi ma deve essere considerata un'occasione per cambiare, per progettare insieme un futuro più giusto con meno disuguaglianze, non si tratta di recuperare le ricette del passato ma di leggere con lenti diverse le sfide della contemporaneità, non dobbiamo avere paura della complessità e non è più accettabile un'economia senza morale, uno sviluppo senza giustizia, una crescita a scapito delle generazioni future in questo senso il Recovery Fund e il Next Generation EU rappresentano non solo la risposta europea alla pandemia e agli effetti che ha prodotto ma anche una grande opportunità per realizzare nuovi modelli capaci di conciliare crescita e sostenibilità. In questo momento storico è fondamentale agire insieme a proteggere la nostra coesione sociale. La seduta ordinaria del Consiglio regionale si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo di Luana Dorazio e di tutte le vittime nel mondo del lavoro, dieci solo in Toscana da inizio anno. Una mozione presentata da Marco Stella, Forza Italia, e approvata all'unanimità dal Consiglio prevede inoltre l'immediata erogazione dei benefici previsti dal Fondo di Solidarietà. L'Aula ha approvato all'unanimità una risoluzione sulla campagna vaccinale. La risoluzione affronta il tema della vaccinazione a 360 gradi e della cura dei malati Covid. Partendo da quest'ultimo aspetto evidenzia come per quanto riguarda l'uso delle monoclonali, ricordo che in Toscana ormai è diffuso su tutto il territorio regionale, ci sono 12 hub, 12 laboratori che le somministrano. C'è un problema nel senso che i criteri di AIFA per individuare i soggetti a cui somministrare le monoclonali sono molto rigidi, tali per cui ci sono tanti pazienti che potrebbero trovare giovamento dalle monoclonali ai quali non si possono inoculare le monoclonali. Allora noi diciamo, soprattutto in vista anche del post-estate, fare un tavolo con AIFA per allargare questi criteri. Ovviamente si parla sempre di persone estremamente fragili prese nella fase iniziale della malattia. Poi si parla delle cure domiciliari. C'è uno studio del Mario Negri ripreso anche dalla Finge, quindi delle prove, delle evidenze scientifiche riguardo l'uso degli antinfiammatori nella prima fase della sintomatologia Covid, che ancora non è stato ripreso nelle linee guida dei medici di medicina generale e nelle linee guida di coloro che si occupano dei pazienti nella prima fase di diagnosi della malattia. Diciamo, ci sono queste evidenze, siccome da alcune parti si continua a dare solo l'indicazione del paracetamolo, riprendiamo queste valutazioni e, se le riteniamo come pare fondate scientificamente, diamole e distribuiamole su tutto il territorio toscano come indicazione da dare ai pazienti, non paracetamolo ma antinfiammatori. E poi sui vaccini, sui vaccini diciamo tante cose, la chiusura di tutte le categorie dei fragilissimi, la vaccinazione dei caregiver, che queste sono iniziate dalla commissione che c'è stata dieci giorni fa, oggi il governo regionale ha iniziato a vaccinare i caregiver, sta chiudendo gli estremamente vulnerabili, l'aria riaperta tra l'altro proprio oggi, diciamo di completare le categorie, perché molte regioni avanzano nelle aperture senza chiudere le categorie di chi è più a rischio, e invece noi diciamo chiudiamo intanto quelli più a rischio, e poi c'è un dato che è quello dei fragili, dopo i sessantenni ci sono i fragili, categoria 4 del piano vaccinale nazionale, noi diciamo apriamo ora, visto che si comincia a vaccinare anche i cinquantenni, cosa permesso dall'ordinanza di figliuolo, apriamo specificamente questa categoria che è giusto inizi la vaccinazione anche in Toscana. Oggi abbiamo votato favorevolmente una proposta di risoluzione per dare in maniera costruttiva una spinta, come l'opposizione ha sempre fatto all'interno dell'Aula del Consiglio. Abbiamo cercato di dare un impulso in maniera positiva, mentre invece c'è ancora il PD, il Presidente Gianni, e soprattutto parte della maggioranza, che fa pensare, dice che la campagna vaccinale in Toscana è andata bene. Non è andata affatto bene, c'è stato un errore originario che oggi paghiamo, perché la coperta è corta, se si tira da una parte si scoprono delle categorie delle parti di popolazione, e così si sta rincorrendo quello che è una campagna vaccinale corretta da effettuare in una regione come la nostra, che purtroppo subito dall'inizio, non vaccinando correttamente coloro che effettivamente avevano bisogno, e soprattutto i fragili, gli ultrafragili, in particolare gli ultraottantenni, oggi ci troviamo comunque in delle posizioni, anche a livello Italia, sicuramente non positive. Importante che si inizi ad andare nella direzione che noi abbiamo chiesto, di velocizzare e completare quanto prima l'iter di vaccinazione sui fragili, passare anche a nuove metodologie, utilizzare e chiedere ai medici di famiglia di estendere la loro attività di prossimità, aumentare gli hub, nello stesso tempo favorire le imprese perché possano vaccinare in house e soprattutto riconoscere gli oncologici, quali soggetti fragili, anche se non sono nei sei mesi della terapia oncologica che magari viene loro rivolta. Questa è una conquista di civiltà, un passaggio che ho voluto condividere e credo che sia una novità importante da quale dare attuazione. Bisogna abbandonare il click day, fare in modo che le persone abbiano accesso in fruizione semplice dei vaccini, quindi alcune risposte a tutti quei siti che noi abbiamo posto in queste settimane iniziano ad andare nella direzione giusta. C'è tanto da recuperare, ma sicuramente il nostro lavoro va in questa direzione per migliorare l'attività di vaccinazione in Toscana. Ma guardate, mentre l'Italia si sta vaccinando, la Toscana è ferma. Mentre le regioni italiane stanno vaccinando, ormai da tre giorni, i nati dal 1961 al 1980, la regione toscana è nati nel 70, li vaccinerà dal 15 di maggio. Se il Partito Democratico pone un tema sulla giunta dicendo che serve un'accelerazione ed un cambio di passo sulla fase vaccinale, deve avere anche il coraggio di sfiduciare l'assessore e la giunta. Noi siamo pronti ad andare alle elezioni, lo siamo pronti subito, non siamo attaccati alle poltrone, le poltrone è l'ultimo dei nostri problemi. Le politiche della salute per la Toscana dei prossimi anni saranno definiti attraverso un percorso che vedrà impegnati insieme il Consiglio e la giunta regionale. Si apre un percorso partecipativo che porterà nel mese di novembre agli Stati Generali della Salute. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo del Pegaso. Oggi è un momento importante perché oltre a discutere dei temi stringenti che questa pandemia ci ha portato ringrazio davvero la giunta, il Presidente Gianni e l'assessore Bezzini per il lavoro svolto in questi mesi. Noi vogliamo rilanciare anche verso il futuro. Consentitemi di ringraziare il Presidente Sostegni per aver lanciato questa iniziativa, un'iniziativa importante tesa a coinvolgere le cittadine e i cittadini della Toscana. Buona politica e saper essere all'altezza degli occhi delle persone, di ascoltarne i loro bisogni, di ascoltare quello che arriva del territorio e cercare poi di trasformare questo in delle risposte concrete. Come noi riusciamo a portare sempre di più la sanità sul territorio, come possiamo fare in modo che il livello dei servizi sia uguale dalla grande azienda ospedaliera ai piccoli ospedali della nostra provincia. Con le differenze che esistono tra i grandi ospedali e i piccoli ospedali, ma con la necessità che non ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B. Ed è questo quello che noi mettiamo in campo e per cui lavoreremo nei prossimi mesi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.